ok mr davis thank you very much for doing this for all of us i think that this video will be seen by many so will be of benefit to many people so thank you e ho detto signor davis l'ho ringraziato perché come dicevo prima questo video potrà essere molto utile per tante persone sono 12 domande e adesso signor davis risponderà a queste domande di utilità per tutti ok first question many people in my country think of hatha yoga as an essential part of yoga and in a few in a few cases some people they do very extreme hatha yoga practice what do you think about that it is not necessary to be very forceful or to practice extreme postures or techniques hatha yoga for general general physical well-being is good ho chiesto al signor davis e cosa pensa delle pratiche estreme di hatha yoga chiedendogli se sono effettivamente necessarie signor davis ha detto no è molto meglio fare lo yoga in modo meditativo ma non è estremamente utile fare le pratiche più difficili o più complicate the original hatha yoga books in india which represent the teachings of hatha yoga teachers emphasize that hatha yoga should be understood to be preparation for meditation and super conscious realization or samadhi il libro più antico di hatha yoga che si trova in india parla delle pratiche di hatha yoga come una preparazione per la meditazione super cosciente e per il samadhi second question first in english and then i will repeat the question in italian in my experience i have noticed that many people attending our seminars are only mildly motivated towards spiritual growth in your opinion is there a key to make people realize the importance of such a goal now in italian ora in italiano nella mia esperienza ho notato che molte persone che partecipano ai nostri seminari sono motivate solo un po' riguardo la crescita spirituale ho chiesto al signor davis se c'è una chiave per motivare le persone un po' di più to be highly motivated a person has to have the aspiration the strong desire and hope that they will be spiritually awake and spiritually enlightened in this embodiment in this incarnation la cosa principale per avere motivazione è che le persone credano possibile e aspirino a diventare realizzati nel loro se e quindi poi ha detto praticamente che questa scintilla però che motiva le persone deve venire da dentro e sarebbe molto utile per le persone chiedersi molto spesso che cosa sono venuto a fare in questo mondo perché vivo in questo mondo e quindi poi praticando la meditazione unita al giusto vivere e al giusto modo di pensare possono avere l'esperienza per capire quanto è importante Ok, next A few people ask me, in order to practice Kriya Yoga do I have to change my religious affiliation? Sometimes the teachings I receive in my church are not compatible with Kriya practice It's not necessary to immediately decide to change one's affiliation with a religious movement or church One should be open minded to see how their own understanding improves with their practice Ho chiesto al signor Davis se è necessario per una persona che vuole praticare il Kriya Yoga cambiare la sua affiliazione religiosa perché alcune persone lo chiedono e dicono poi ovviamente che gli insegnamenti che ricevono nelle loro chiese non sono apparentemente compatibili con il Kriya Yoga Il signor Davis ha detto all'inizio no, può non essere necessario subito cambiare affiliazione religiosa You wrote a book on Ayurveda and you have been following Ayurvedic suggestions for years Could you recommend Ayurveda to everybody? I recommend... Go ahead It's okay You're going to ask... you get the question Yes Ho chiesto al signor Davis, siccome lui segue i suggerimenti dell'Ayurveda da una vita, se può raccomandare l'Ayurveda a tutti The word Ayurveda means Ayu, life and Veda knowledge, so it is a life knowledge, how to live And so I recommend that a person who is on a spiritual path, practicing yoga, should learn at least the philosophical basis for the practices of Ayurveda Ayurveda significa conoscenza della vita e lui raccomanda alle persone di avere almeno un'infarinatura di base sulla filosofia perché è utile In poche parole, comunque l'Ayurveda incoraggia le persone a vivere una vita equilibrata Quindi a mangiare giusto, ad avere il giusto atteggiamento positivo, a fare la giusta attività e così via Quindi è utile And also in Ayurveda the emphasis is on understanding our personal, what we call body-mind constitution or makeup And adapting a lifestyle and nutrition and everything else we do to balance that body-mind constitution that we have Inoltre l'Ayurveda insegna alle persone a comprendere quella che può essere la loro costituzione mente-corpo E suggerisce alle stesse di adattare il loro stile di vita a questa costituzione Ok, next In your opinion, he is becoming an expert of Vedic astrology useful? If not, is having a chart made at least once in a lifetime useful? Ho chiesto al signor Davis se secondo lui è utile diventare un esperto in astrologia vedica O, se non è utile questo, almeno se è utile farsi fare un tema natale almeno una volta nella vita I think it can be interesting to have an astrological chart evaluated by a competent astrologer It can be of interest and so it's alright to do it But I don't think that we should consider ourselves to be victims of the planetary influences Ok Il signor Davis pensa che sia utile farselo fare almeno una volta nella vita Può essere una cosa interessante da scoprire Vedere quali sono le opinioni di un astrologo eventualmente sulla nostra situazione Però bisogna ricordare che non siamo vittime delle influenze planetarie Non bisogna pensare di essere vittime di queste influenze For instance, Paramahansa Yogananda's guru, Sri Yukteswar, was a Vedic astrologer First he was an accomplished yogi, but he also understood the philosophy, the practice of Vedic astrology And sometimes recommended the use of gems and metals to neutralize adverse planetary influences But he didn't ask his disciples to be dependent on these activities Ok Allora, per esempio, il guru di Paramahansa Yogananda, Sri Yukteswar Suggeriva alle persone a volte di utilizzare bracciali, gemme, pietre preziose Per scopi relazionati al jyotish, all'astrologia vedica Però suggeriva anche alle persone di non considerarsi dipendenti da queste cose And Paramahansa Yogananda advise his disciples to meditate, to live a good life And to be able to live without being overly concerned about external conditions E Yogananda, inoltre, suggeriva a tutti i suoi discepoli di vivere la loro vita al meglio Senza essere troppo preoccupati su quelle che erano le condizioni a loro esterne Cioè, a ciò che succedeva al di fuori di loro Alcune persone che conosco mi dicono che non riescono a praticare regolarmente a casa Perché i loro compagni o le loro compagne sono un ostacolo per questa cosa Ho chiesto al signor Davis se ha un qualche suggerimento in proposito Sarebbe l'ideale che marito e moglie o compagno e compagna fossero compatibili E avessero una comprensione di quello che fanno l'uno e l'altra Basata anche sull'amicizia Però, se questo diventa un problema È una questione che bisogna risolvere Se la relazione è importante, è una relazione di valore che comunque funziona bene Allora ci può essere una discussione per migliorarla da questo punto di vista Uno dei miei fratelli discepoli di Yogananda aveva una situazione simile Perché aveva una moglie che non lo supportava nelle pratiche E anzi lo ostacolava E allora una volta lui chiese a Yogananda Maestro perché sono nato con questo karma? Perché mi è capitato questo? E Yogananda disse Perché ti doveva insegnare a portare pazienza Ho chiesto al signor Davis Siccome lui insegna la pratica dell'immaginazione creativa E gli ho chiesto se si può utilizzare una pratica simile Per accelerare la crescita spirituale Sì, l'immaginazione creativa è una immaginazione controlla E possiamo usare l'immaginazione per immaginare o per vedere la nostra mente Come vogliamo essere Possiamo immaginare come sarebbe spirituamente awake Salute, felice Possessi di capire la nostra relazione con l'universo Possiamo immaginare come possibile Allora, l'immaginazione creativa è un processo di immaginazione controllata E possiamo utilizzarla effettivamente per vederci risvegliati a livello spirituale Per vederci dotati di una maggiore comprensione E facendo questo tipo di pratica Noi praticamente possiamo preparare la mente Per avere quel tipo di esperienza Per accettare quel tipo di condizione Grazie La domanda è questa Il signor Davis suggerisce sempre alle persone di focalizzarsi sulle cose essenziali nella vita Una persona mi ha chiesto Come faccio a sapere che cosa è essenziale e che cosa non lo è? L'essenziale è ciò che ti permette di raggiungere degli obiettivi Di raggiungere i tuoi scopi Quindi bisogna focalizzarsi essenzialmente su quelle azioni Che ti permettono di raggiungere degli scopi di valore Che ti permettono di capire che cosa devi fare e come farlo And it's helpful for people on the spiritual path To have daily routine That's constructive And helpful to them So I recommend early morning meditation And then also writing ahead of time What you plan to do every day To accomplish your purposes of value So that you stay focused On doing what is essential What is useful And you have positive results Il signor Davis essenzialmente dà due consigli Diceva il primo è quello di meditare la mattina presto tutti i giorni E il secondo è quello di scrivere su un foglio di carta Quello che pensiamo di dover fare durante la giornata Per raggiungere i nostri scopi più importanti Ok In our spiritual path Some advanced practices are taught The higher kriyas Are they useful to the average devotee? Nel nostro sentiero Vengono insegnate anche delle pratiche avanzate Cosiddetti kriya superiori Ho chiesto al signor Davis Se sono utili Per diciamo Per il devoto medio Comunque per il praticante Normale Che vive la vita Che vive una vita normale La vita di tutti i giorni Insomma per un padre di famiglia Per una persona che è sul sentiero spirituale Parvamsa Yogananda taught That the basic practices Of prayer Breath observation Mantra Kriya Pranayama These are the most important And listening to the Aum Or the subtle sound So called advanced techniques They are of interest To people Who like to experiment But I know many people Who learned them And who practiced them And I don't see Extraordinary results Ok Le pratiche di base Sono le più importanti Quindi Longso Il Kriya Pranayama L'ascolto di Om Normalmente queste sono sufficienti Poi so che ci sono persone Che vogliono Per loro interesse Sperimentare anche con queste pratiche Più avanzate Però poi sono venuto a sapere Che molte di queste persone Poi non le praticano regolarmente Quindi non è assolutamente necessario And among practitioners of yoga And among christian mystics Mystics of other cultures You know There have been people Who have been spiritually enlightened As the result of their devotion To God As they understand God And as a result of their letting go Of their ego Or their small sense of self Or sometimes They have a flash of insight As in the Zen tradition And they don't know anything About meditation techniques But they still have Spiritual awakening Nella mia vita Mi è capitato di vedere Persone Illuminarsi O comunque avere Una specie di risveglio Anche semplicemente Grazie alla loro devozione Al fatto di abbandonare Il loro senso Di esistenza separata E queste persone Hanno raggiunto Dei risultati ottimi Anche senza conoscere nulla Sulle tecniche di meditazione Alcune persone che conosco Mi hanno detto Di essere molto motivate Per la crescita spirituale Ma vivono ancora Una vita molto attiva E complicata Anche se sono In età avanzata E uno di questi Una volta mi ha chiesto Qual è secondo te Il momento Di rallentare E di dedicarti Al cento per cento Alla vita spirituale I think we should emphasize To others Who come to us For advice That it is possible To live a balanced life And to engage In useful spiritual practices While we are also Living effectively Il signor Davis Enfatizza Che l'insegnamento Che diamo È di vivere Una vita equilibrata E dove si può Far coesistere La pratica spirituale Con una vita attiva Con una vita attiva Nel mondo Il signor Davis Enfatizza il fatto Che ogni cosa Che facciamo Possa essere considerata Come una pratica Spirituale Utile In the Bhagavad Gita One of the characters Created by the author Of the Gita Krishna Representa Nella Bhagavad Gita Krishna Che rappresenta La coscienza illuminata Dice ad Arjuna Che rappresenta Il devoto Che cerca la verità Che vivere una vita In modo abile Ed efficace È una pratica spirituale And I noticed Among my brother And sister disciples Who were with Our guru For many years The ones Who seemed to be Most spiritually Advanced Or spiritually awake Were people Who were also Very successful In their daily life E ho visto Con l'esperienza Che tra i miei Fratelli discepoli Quelli che erano Apparentemente Più avanzati Erano anche quelli Che erano molto impegnati Nella vita di tutti i giorni E avevano molto successo Quindi vivere una vita ordinata Avere una famiglia Avere una famiglia Gestire rapporti Con le altre persone Pagare le bollette In tempo Tutte queste cose qui Sono parte Della vita spirituale E sono una pratica spirituale Utile Ok Last question Mr. Davis And this can be useful Not only for people But also for us As ministers I mean It is important For me To keep this Kriya Yoga tradition Pure and Unadulterate In some way Other ministers Will probably See this video Watch this video So your suggestions Are very important About this Could you please Elaborate on this matter E Stavo dicendo Signor Davis Questa domanda È utile Per tutti Quelli che ascolteranno Queste parole Vedranno questo video Ma in particolarmente Anche per noi ministri E Ho detto a signor Davis Che è mia intenzione Come anche sicuramente Quella di tanti altri Portare avanti Questa tradizione Nel modo migliore possibile Più puro possibile E gli ho chiesto Di Parlare un po' Di queste cose Kriya Yoga As defined In the Patanjali Yoga Sutras Is Simply Mental and emotional Discipline In a constructive way Inquiry Into What am I What is my true nature In relationship To the infinite And Letting go I go slow Because it's important It's okay If I do Slowly Signor Davis Dice che il Kriya Yoga Negli Yoga Sutra Di Patanjali Viene definito Come Autodisciplina Quindi Chiedersi Qual è la nostra Vera natura Che cosa sono io Chiederselo spesso And then Letting go Dissolving This Mistaken Sense of Self Identity E Dissolvere Questo senso Errato Di esistenza Indipendente Se comprendiamo Intellettualmente Che siamo Creature spirituali Che utilizziamo Un corpo E una mente E possiamo Poi alla fine Realizzarlo Come un fatto E quindi Sperimentare La nostra Vera natura Quindi Se facciamo Tutto questo Il sentiero Spirituale Altro non è Che Lo svilupparsi Di questa Nostra Conoscenza Innata So again In the Patanjali Yoga Sutra Patanjali Mention That Kriya Yoga These Practices Are done For the purpose Of Neutralizing Or Weakening And Neutralizing The Psychological Problems That We might Weakening Patanjali Patanjali Yoga Sutra E queste procedure sono veramente semplici e non è necessario renderle complicate. Non è necessario tramutarle in idee filosofiche strane e complesse. L'ultima parola di istruzione che Paramahansa Yogananda mi pronunciò circa tre settimane prima di lasciare il corpo furono vai avanti fino all'obiettivo della realizzazione del sé e di Dio e non distrarti, non guardare da una parte, non guardare dall'altra e non guardare indietro. Vai sempre avanti fino alla fine. And then after he had told me that, he said, you can do it. And so I say to our listeners, they can do it. E quindi dopo avermi detto queste parole, lui disse anche, ce la puoi fare. E quindi anche io, quindi il signor Davis, dico a tutti quelli che stanno guardando questo video, ce la potete fare. Tutti prima o poi saremmo spiritualmente illuminati, quindi il mio pensiero è, se tutti siamo destinati ad esserlo, perché non cercare di esserlo prima? Molte persone pensano, dice il signor Davis, che non c'è un problema, che non c'è un problema, che non c'è un problema. Non c'è un problema, come dire, che non c'è un problema, che non c'è un problema. We try to set a good example by how we think, how we live and what we do. Encourage others, be patient, do not have to be very patient. You have to be a karma yogi. You have to do your best to serve without being unhappy if you don't see the results that you would like to have. But you just do your duty and do it consistently and mainly to inside stay self-knowing and God-conscious. Mr. Davis, thank you very much. I hope this video is useful for everyone. I thank Mr. Davis and I'm convinced to do it by all of you who will watch this video. Namaste.